Sicurezza a Teramo, le telecamere ci sono, non ci sono, ieri uno scambio di battute con il consigliere Luca Corona in consiglio comunale, in realtà ci sono le telecamere ma sono in attesa di collaudo. Devo dire che come avevo già detto dieci giorni fa che è iniziata la procedura di richiesta di collaudo, venerdì inizierà la procedura di collaudo, mi auguro che due o tre giorni sia tutto completato e possiamo avere la disponibilità e l'accesso per avere sotto controllo la città con l'attivazione di tutte le telecamere. Leggo anche in alcune parti, imbarazzante, funziona, funziona. Le telecamere nel momento che io chiedo il collaudo è evidente che funzionano, il problema è che la Polizia Municipale finché non viene collaudata non ha l'accesso, quindi non c'è nulla di imbarazzante, funziona, funziona. Le telecamere quando io ho chiesto il collaudo funzionano, quindi questa diatriba veramente che non porta a nessuna parte, se poi qualcuno dice che c'è stata un ritardo, evidentemente avevamo intrapesso una strada, quello di utilizzare la fibra per il collegamento, poi purtroppo ci sono richieste esose da parte di Open Vibre, quello ha portato di ritardo, abbiamo cambiato percorso, oggi andiamo a installare un numero importante di telecamere a costo zero per l'amministrazione, ovviamente dopo un po' di tempo verificheremo se c'è la necessità di installare qualche altra telecamera per rambiare la rete e cercare di avere una città sotto controllo. Sono circa 48 le telecamere che dovranno essere funzionanti a terra o tra l'altro studiate su un piano con le forze dell'ordine. Diciamo che il piano è stato messo in campo dalla Polizia Municipale in collaborazione con le forze dell'ordine, quindi l'amministrazione non è intervenuta in questa scelta, quindi mi auguro che le scelte siano state fatte in maniera corretta, però ripeto abbiamo la possibilità di poter verificare l'efficacia di queste telecamere e anche del posizionamento, eventualmente poi andremo magari ad ampliare il numero delle telecamere e anche cercare di avere sotto controllo alcune zone che forse sono state dimenticate, tipo collaterato alto e quindi cerchiamo di andare in questa direzione. Ripeto, c'è stato qualche ritardo per le ragioni che ho spesso prima, però adesso siamo più tranquilli e cercheremo di avere una città più sotto controllo, anche perché gli ultimi episodi ci consigliano una maggiore attenzione per quanto riguarda l'ordine pubblico e gli atti incivili che si verificano in continuazione. Si potrà verificare anche, ipotizzare anche l'aumento del numero di videocamere? Sì, come dicevo prima, sì, si può perché col ponderaglio si può andare ad ampliare, modificare, verificheremo poi nel tempo cosa con questo sistema se è efficace, se richiede un ulteriore intervento.